Per fronteggiare la crisi della domanda interna che da anni affligge il real estate, la Federazione Italiana degli agenti immobiliari professionali ha intrapreso da tempo un percorso di internazionalizzazione dei propri iscritti, mirato a fare rete in Europa e ad attirare gli investitori stranieri. Raffaele Dedemo, vicepresidente FIAIP, ha tracciato un primo bilancio del percorso. Sta dando i suoi frutti perché noi comunque teniamo la crescita del professionista agenti immobiliari indipendentemente da FIAIP, quindi noi ovviamente la facciamo con i nostri associati, però a noi interessa che proprio il professionista, la figura dell'agente immobiliare possa crescere a livello globale dentro il nostro paese. Da noi sta dando i suoi frutti perché comunque i nostri agenti che prima pensavano che i loro territori non fossero assolutamente di interesse da parte dei clienti della straniera, invece adesso si sono resi conto che le cose sono diverse e stanno tenendo una parte importante del loro fatturato sempre più importante proprio grazie al fatto che si stanno proponendo sull'estero, cosa che prima non succedeva. Da una ricerca sul 2014 presentata durante la tappa romana del roadshow di Expo Rial Monaco è emersa la forte espansione degli investimenti nel settore. Il clima finanziario dunque è favorevole, ma ci sono già segnali concreti di ripresa? Allora, è ancora presto per dare dei numeri per quanto riguarda il primo trimestre del 2015 perché si chiude oggi che è l'ultimo giorno del mese, però da quello che è stata una prima raccolta dati che è stata fatta è rilevato che comunque c'è un ottimismo dal punto di vista dei vendite molto marcato rispetto al 2014 appena trascorso.